Grazie a tutti. E perché l'immagine di questa stella? La stella è un'immagine trigger che abbiamo trovato nell'esercito. In scala più o meno una cinquanta del complesso, che avete visto in parte già nella parte della chiesa vecchia e poi si continuerà nella parte dell'incomputato. Sapete voi che incontrate a Renosa qui, nella bella città dal nome di Venere, città di Gesualdo, il fine madrigalista, di Giovanni D'Arccia e Corella, di Pirro del Vanzo, costruttore del bagnettico castello di Nascimento Italia, di Manfredi, il figlio prediretto di Federico II e di Galancia. La mia di Massimo è riuscita a leggere le tre fasi di Cattà. La mia di Massimo è stata completamente in manutenzione. Quindi creare una grossa porta, la città, qualche idea di piano, e tagliare tutto quello che ha scoperto. Hanno un'attaccavato e le stupirano un po' caldo a un uomo che è rimasto in base. Perché? Voi immaginate una campana che mi ha detto di presa, non dico che l'avete parlato, ma ha detto di un mondo pesato. Quindi loro sono riusciti a sollevarlo e hanno creato un uomo che è in seguito il ferro. Non ho il collegamento qui io, non ho la scheda. Non riesco a avere praticamente niente. Vedo tutti i riflessi. Ora ce lo fai a tenere? Fammi provare, scusa. Non c'è da nulla. Bisogna che tu aumentassi. Hai il massimo la luminosità dello schermo, se puoi. Non lo so. Perché se tipo ti do il roaming... Non c'è da nulla. Questa venosa è come non l'ho mai vista prima. Non c'è proprio un giovane. Non c'è proprio un po' 30 minuto. Sono un'immagine che noi abbiamo scelto, cioè la colonna dell'Arcenzia. La divertenza è perché abbiamo appena visto un plastico dell'incompiuta e ora sono dentro l'incompiuta. Abbiamo fatto delle foto con alcuni simboli che abbiamo fatto sulle pareti, per provare a approfondirli e a vedere da quale periodo sono state prelevate queste cose e non sono state funzionate. Io ho preso 9 pagine di appunti e sinceramente non ne posso più. Abbiamo fatto anche alcuni video e alcuni foto che poi caricheremo sul blog. Quindi seguite. Non ci vedrete davvero, stai incompiuta, stai incompiuta, stai incompiuta. Luigi, tu cosa stai facendo? Io sto modellizzando su Edmond. In questo momento stavo elaborando il piano che riguarda il gruppo in generale, il nostro team in generale. Appunto il primo piano riguarda... Piano piano. Questa è l'etichetta del vostro team e queste sono le vostre immagini. Immagini. Fai il giro piano piano. Il primo sono io, il secondo è Donato e il terzo è Fabrizio. Qui ci sarebbe dovuto essere un altro componente del gruppo, solo che oggi è assente e quindi non ha potuto fare la foto. Come immagini trigger il pavimento che abbiamo trovato nella chiesa della Trinità a Venusa. Abbiamo scelto un particolare di questo pavimento. Piano nei movimenti perché sennò poi viene male il video. Quindi muoviti ma senza esagerare nei movimenti. Abbiamo scelto come particolare del pavimento questa svastica e abbiamo deciso di modellizzarla su Edmondo e abbiamo realizzato la nostra immagine. E ora abbiamo creato dei muri, li abbiamo messi insieme. Poi abbiamo deciso di riportare il colore che abbiamo trovato della svastica in Edmondo. E ora stiamo cercando di... E ora stiamo cercando di...